A conclusione delle attività di studio approfondimento inserite all'interno del curriculum di educazione civica relativa alla promozione alla cultura della legalità portate avanti dall'Iceo Scientifico e Linguistico Leonardo, gli studenti hanno partecipato a un importante percorso formativo dal titolo dall'etica della responsabilità alla cultura dei diritti, che si è articolato in due momenti. Il primo, quello previsto proprio nella giornata di ieri, venerdì 16 aprile, è incentrato sulla figura del giudice Falcone e sul valore della responsabilità individuale e collettiva. Il secondo avverrà giorno 5 maggio, mercoledì, è incentrato sulla figura del giudice Livatino e sul valore della coerenza in preparazione al percorso di beatificazione del giudice. L'iniziativa, voluta fortemente dal dirigente scolastico Patrizia Pilato, ha visto centinaia di studenti interrogarsi sul valore e l'importanza della responsabilità individuale nella costruzione del benessere collettivo, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui si assiste a una preoccupante mancanza di rispetto delle regole e della loro attuazione. Dall'esempio dalla testimonianza di Giovanni Falcone, il giudice attraverso il maxiprocesso ha fatto dall'agire collettivo il presupposto per il raggiungimento di risultati importanti, proprio perché condivisi e non lasciati alla singola iniziativa. Gli studenti guidati dai vari docenti, e in particolare al referente Alessandra Grassi, hanno incontrato nella giornata di ieri, tramite meeting virtuale, la dottoressa Falcone, sorella del giudice assassinato e presidente della fondazione Falcone, la dottoressa Cecilia Baravelli, sostituto procuratore della Repubblica di Aligento. È stato un momento di altissimo valore formativo, che certamente ha contribuito al rafforzamento della coscienza civica, oggi grande dovere formativo della scuola.